L'Expo sarà una grandissima opportunità per l'Italia, sarà un'opportunità per creare lavoro, per creare investimenti positivi, per infrastrutturare un'area del nostro Paese che ne ha terribilmente bisogno. Il tema essenziale dell'Expo è un tema rispetto al quale la possibilità di agganciare la crescita lì è legata a cosa facciamo adesso. E cosa facciamo adesso? Vuol dire tante cose. Vuol dire ovviamente fare scelte che diano investimenti, che diano lavoro e naturalmente che diano legalità. All'Expo io ho intenzione di legare normative nazionali che rafforzino quegli elementi di tutela e di legalità che sono essenziali perché questo carico di investimenti che ritengo ci saranno sono un carico di investimenti che ovviamente non deve consentire a nessuno di avere scorciatoie, furbizie o cose che purtroppo troppe volte accadono. In questo senso il lavoro che faremo già dai prossimi giorni, già dalle prossime ore, sarà un lavoro molto forte legato alle normative che si creeranno attorno alla vicenda Expo per riuscire a trascinare la crescita e trascinarla nella modalità che io credo tutti vogliamo portare avanti.